Il pesce di Silvio Piola Il pesce di Silvio non scherza E il piccolo Dario non si limita a copiare papà soltanto a tavola Con tanto maestro gli sarà facile diventare un giorno un magnifico Piola II Quanto al primo vada soprattutto a non perdere il vizio di segnar gol Per 11 anni centravanti della Lazio Gli sportivi rovani hanno voluto testimoniargli la loro affettuosa ammirazione Sulla targa d'oro frutto di una sottoscrizione a quota fissa Un francobollo la dedica dice tutto A Silvio Piola a 38 anni come a 20 bandiera del calcio italiano